Mentre credo pochissimo in una demagogica e di responsabilizzante idea, appunto, quella che per esempio i nostri padroni sono i lettori. No, i nostri padroni non sono i lettori. I follower... Ciao, ciao ragazzi, saluto. Ciao. Ciao capo, ci sentiamo. Ottimo, ottimo. Ciao, ciao, vi dice a tutti. Ciao ragazzi.